Per fortuna sei ancora qui. Perché? Una chiamata d'emergenza, cinque persone su a Conblat. Il tempo sta peggiorando e Al è andato da solo. Al è un bravo arrampicatore. Come? Ma che significa? Significa che può cavarsela da solo. Ma se viene bloccato dal maltempo, non ce la faranno a ridiscendere. Gabe, gli serve una persona qualificata nel pronto soccorso e che conosca ogni appiglio di quelle cinque. Sono l'ultima persona da cui vorrebbe essere aiutato e poi non è per questo che sono tornato. I nostri problemi non c'entrano ora. Pensa a quella gente. E se non dovesse farcela da solo? Senti, Jesse, non arrampico da mesi. Credo di aver perso la mano. Non avrai perso il coraggio. Io non volevo dirlo. Non fa niente. Lo so che non vuoi più essere responsabile della vita di qualcun altro, ma stiamo parlando di un uomo che è stato il tuo miglior amico. Ti prego, Gabe, ha preso la cresta a ovest. Se tu prendi la parete nord, arrivi prima di lui.